In questo video, esploreremo la gamma di opzioni offerte da Pastidea per il Philips Pasta Maker Avance e la Serie 7000. Queste opzioni non sono compatibili con il Philips Pasta Maker Viva o la Serie 5000. Per questi modelli, offriamo una gamma diversa di accessori. La nostra prima opzione presenta trafile realizzate in POM, o plastica, progettate per adattarsi a queste macchine senza la necessità di un adattatore. Il processo di estrusione è liscio e veloce. Queste trafile sono lavabili in lavastoviglie. Attualmente sono disponibili oltre 200 formati. La seconda opzione include quelle comunemente note come trafile in bronzo, o ottone. Queste richiedono un adattatore per funzionare con le macchine Philips. Potete scegliere tra la versione standard in bronzo, o ottone, o optare per la versione premium rivestita in PVD, che è lavabile in lavastoviglie. Sono disponibili vari adattatori, permettendo l'uso di queste trafile con diverse macchine in futuro. Come per la prima opzione, sono disponibili oltre 200 formati fra cui scegliere. La pasta prodotta è più porosa, con un migliore assorbimento dei sughi. La terza opzione è un sistema innovativo e brevettato da Pastidea, progettato per rendere l'estrusione della pasta più economica e i componenti più facili da pulire. Gli inserti sono disponibili sia in bronzo, o ottone, che in pom, o plastica. Ci sono due tipi di portainserti, uno per forme tipicamente estruse orizzontalmente, e un altro per quelle tipicamente estruse verticalmente. Questi portainserti sono disponibili in kit per una maggiore convenienza economica o possono essere acquistati singolarmente. Sebbene questa opzione preveda molte più forme in futuro, è importante notare che non tutte le forme speciali sono fattibili con questo sistema. Gli inserti sono anche più piccoli e occupano meno spazio in cucina. I prodotti di Pastidea superano testi in laboratorio per assicurare la conformità agli standard di sicurezza alimentare, garantendo qualità e la vostra tranquillità. Tutte queste opzioni sono disponibili sia per la serie 7000 di Philips, che per il Philips Pasta Maker Avance.